Oggi sarai tu a mescolare il cubo di Rubik e creare una di queste 43 miliardi e miliardi di combinazioni una unica e personale mescola, mescola, mescola Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video allora oggi vedremo finalmente per la prima volta uno dei sei effetti contenuti all'interno di Cube Fix Magia con il cubo di Rubik il mio ultimo prodotto che uscirà giorno 10 luglio su Jugger Magic Company quindi ci siamo quasi per chi non avesse visto il trailer uscito qualche giorno fa che comunque vi consiglio di guardare Cube Fix è tutto ciò che vi servirà per imparare la magia con il cubo di Rubik dalle basi fino a magie sempre più professionali quindi sia per principianti che per prestigiatori professionisti vi ricordo che se acquisterete entro il 10 luglio quindi all'interno del preordine avrete la possibilità di scegliere la vostra copia personalizzata quindi che varia dall'1 al 60 quindi siccome tutti i cubi sono numerati voi potrete scegliere la vostra copia con il vostro numero preferito per esempio il 10, per esempio il 5 insomma quello che più vi piace ma questo solamente entro il 10 luglio quindi non vi rubo altro tempo e oggi vedremo la performance che si chiama una tra 43 miliardi di miliardi allora oggi ti farò un gioco che ha davvero dell'impossibile come vedi abbiamo un cubo di Rubik e come già ti ho detto altre volte il cubo di Rubik ha davvero tantissime combinazioni sono circa 43 miliardi di miliardi quindi se tu andassi a scombinare questo cubo magari senza nessun messo logico oppure alla cieca è praticamente impossibile che tu per due volte ricrei lo stesso disordine certo ma adesso in questo gioco sarai tu a mescolare il cubo e creare una di queste 43 miliardi di miliardi di combinazioni ok adesso ti dirò tutto passo passo quello che dovrei fare ti do il cubo adesso è una parte dimostrativa tu inizierai a mescolare così però potresti mentalmente associare dei tasselli quindi quello che andrai a fare poi sarà portarti dietro la schiena ok io prenderò lo smartphone dopo che avrai mescolato e farò una foto ok così dopo che abbiamo fatto la foto ritornerai in questa situazione e io cercherò di memorizzare tutti i tasselli da te scombinati ci proviamo ok ok mi piace quindi questo è il cubo io non guarderò ok inizio a mescolare inizia la mescolanza la mescolanza chissà se le mescoli come le carte che lo distrugge un po' sì mescola 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 quando sei soddisfatta ok passi dietro la schiena passo dietro e mescoli anche lì in questa maniera il tuo cervello non associa i colori quindi stai facendo alla cieca ok direi che va bene quando va bene me lo dici va bene ok un attimo fai la foto faccio una foto ferma ok e adesso la parte difficile vai ok ci sono adesso dovrei rimescolarlo di nuovo certo mescola 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 ok ci sono anche dietro la schiena metto dietro continuo quindi hai creato un'altra di queste 43 miliardi di miliardi di combinazioni ci sono l'ho fatto mi dà il cubo adesso proverò a fare l'impossibile ok ci trovo a fare l'impossibile Ok, fatto! Come vedi, sembra che io non abbia fatto nulla. Sì, perché non mi ricordo, ovviamente, i colori. Abbiamo fatto una foto? Esatto. Che adesso vado ad aprire. Allora, questa è la foto che ti ho fatto prima. Hai mescolato il cubo? Sì. Ok, guarda un po'. Queste sono le tue mani. Guarda i colori. Verde, bianco, blu. Sono riuscito a ritornare a quella situazione. Io non ci posso credere. Guarda bene. Questo è stregoneria pura. Stregoneria. Aspetta. No, raga, non è possibile. Faccio vedere in camera per gli scettici. Anche qui. No, ma non è possibile. Non no, io voglio controllare proprio riusciatamente. Arancione, arancione, blu, blu, bianco. Assurdo, no? Ok, ragazzi, eccoci qui con le conclusioni. Come avete visto, lo spettatore ha mescolato per due volte il cubo di Rubik, creando per la prima volta una combinazione diversa su 43 miliardi di miliardi. Noi l'abbiamo memorizzata, dopodiché l'abbiamo riprodotta dopo che lo spettatore nuovamente ha rimescolato il cubo di Rubik. Quindi come avete visto è una magia davvero pazzesca e per conferma l'abbiamo visto nel nostro smartphone. Quindi vi ricordo che se volete acquistare CubeFix vi lascio giù il link in descrizione. Ringrazio ancora tutti voi, ringrazio sempre Aide, ringrazio Jugeb e Juicy che ha permesso queste registrazioni. Quindi detto questo il video termina qui e ci vediamo al prossimo video.